Antonello Marcucci presidente di Umber Group grazie buongiorno e grazie per la sua partecipazione a questa chiacchierata grazie a voi e per l'invito allora siamo all'interno del museo palladio a vicenza dove si stanno tenendo tutti gli eventi digitali del festival città impresa che sta appunto avendo luogo a vicenza Umber Group è una multinazionale produttrice di viti a ricerco ricircolo di sfera ma non solo anche soluzioni ad elevata tecnologia per il settore aerospaziale e anche per settori industriali di altro tipo la storia dell'azienda nasce nel 1972 quando Umbra Cuscinetti viene fondata ci racconta meglio la storia appunto dell'azienda e le tappe fondamentali dello sviluppo sì grazie innanzitutto per l'invito e cercherò di essere esaustivo su questa sulla storia velocemente allora si nasce il 1972 per un accordo fra una multinazionale tedesca che era Schaeffler chiaramente leader nel settore dei cuscinetti cuscinetti in questo caso parliamo di cuscinetti di grande dimensione non cuscinetti per l'automotive ma cuscinetti per il settore per fare esempi eolico piuttosto che settore laminatoi acciaierie piuttosto che ferroviario nasce e si sviluppa e il direttore di produzione di questo stabilimento che nasce a Foligno proprio come diceva lei Umbra Cuscinetti è l'ingegner Walter Bardaccini negli anni la multinazionale tedesca che aveva già un altro stabilimento a Casoria in provincia di Napoli decide di dismettere lo stabilimento di Foligno e perciò lo mette in vendita l'ingegner Baldaccini che in questo momento era il direttore di produzione decide di acquistare lo stabilimento stesso con un'operazione un po' particolare perché siamo intorno al 1993 quando lui fa un'operazione di management buyout un'operazione di leverage attraverso l'indebitamento che ancora non veniva annoverato fra il codice civile come un'operazione fattibile perché soltanto nel 2004 il codice civile ha recepito operazione di leverage comunque l'operazione viene fatta lui l'aveva sentito parlare attraverso un convegno che aveva fatto anni prima in Inghilterra insieme ad altri tre imprenditori del territorio rileva l'azienda l'azienda se vita cresce nel settore indassia come diceva lei oltre che Cuscinetti incomincia a produrre viti a ricercolo di sfera viti a ricercolo di sfera che non è altro che una vite che trasforma un moto lottatorio in un moto traslatorio è chiaro che prima che ci fossero in questo caso le vite a ricercolo di sfera si utilizzava e si utilizza tuttora il problema di martinetti idraulici però mentre la vite in questo caso è una vite pulita perché c'è un maschio e una femmina e non c'è olio non c'è rispetto all'idraulico che invece funziona attraverso olio che cosa succede in questi anni l'azienda se vita crescere incomincia a fare dell'acquisizione nel 1996 fa un'acquisizione in Germania che si chiama Kuhn una società che produce viti a ricercolo di sfera per il settore indassia in particolare macchine utensili se vita ancora a prosperare a fare altre operazioni di M&A nel 1999 va all'altra parte dell'oceano e nello stato di Washington Washington vuol dire sull'oceano pacifico tanto per fare la capitale di quello stato è Seattle diciamo la città più importante perché la capitale non è proprio Seattle e dove però c'è l'importante insediamento di Boeing uno dei principali produttori in quel momento il principale produttore di aereo mobili e con questa anche questa inizia a produrre in quel caso componenti per il settore aerospace l'azienda nel frattempo seguita a portare avanti innovazione perché questo è un elemento fondamentale per la crescita dell'Italia è l'innovazione e inizia a produrre viti per i settori spaziali attraverso un nuovo materiale il cronico 30 che è quello che fa veramente dalla spinta all'azienda per poter crescere e per poter andare oggi siamo presenti in tutti gli aerei che vengono prodotti superiori a 100 posti noi abbiamo un componente che tutti aereo che sia Airbus che sia Boeing che sia Bombardier o che sia in Bremer c'è un nostro componente fino all'ultima acquisizione che è stata fatta nel 2018 in America sempre dove abbiamo acquistato il nostro principale concorrente questa è un po' la storia oggi abbiamo sette stabilimenti di cui due in Germania e due in America e tre ne abbiamo in Italia la sede principale è a Foligno dove normalmente in questo momento oscilliamo dai 800 ai 830 dipendenti per un fatturato globale del gruppo di circa 238 milioni di euro quindi un gruppo molto vasto e localizzato globalmente oggi sì il 90 per cento sono esportazioni certo quale ritiene oggi sia il vostro vantaggio differenziante il vantaggio competitivo principale rispetto ai vostri competitors ma il nostro vantaggio competitivo l'ho detto prima sicuramente è stato quello di avere l'innovazione di aver ricercato sempre con continuità con grande passione l'innovazione sia dal punto di vista tecnologico ma in modo particolare sul prodotto alta qualità di prodotto altrimenti uno non poteva prendere una quota di mercato così importante nel settore allo spesso il secondo elemento più importante sono risorse umane uno degli elementi fondamentali che noi su cui oggi facciamo leva per poter crescere con siamo crescendo è la vicinanza e la formazione la preparazione e attrarre talenti in un territorio un modo particolare l'ombria conosciuta per il verde per i santi tutto quello che vogliamo per gli aspetti enogastronomici ma sicuramente non è un distretto aereo spaziale importante come potrebbe essere quello di napoli piuttosto che quello di varesco certo o di taranto oggi è chiaro che oggi per noi sapere attrarre talenti per poterli farli crescere poterli sviluppare è un elemento fondamentale perché solo attraverso gli uomini come lei prima diceva fondamentalmente la tecnologia si può acquisire però gli uomini non è così semplice perché uno può andare bene per l'azienda di fronte al nostro stabilimento ma non può andare bene per noi perciò grandi investimenti il risorso umane e in tecnologia e questo è anche quello che riguarda il futuro non soltanto nel pre-covid ma in modo particolare nel post-covid con tutto il problema della digitalizzazione certo volevo proprio appunto approfondire la situazione contingente covid 2020 un anno eccezionale evidentemente conseguenze sia sociali che economiche in particolar modo su alcuni settori credo che l'aerospace sia sicuramente uno dei settori che ha subito maggiormente il contraccolpo quale ritiene potrebbe essere il cambiamento maggiore con il quale vi dovrete confrontare sicuramente noi ci troviamo 21 di febbraio diciamo in una situazione chiaramente invidiabile da parte di tutti perché il settore aerospace ha una previsione di medio e lungo termine a risferanza di altri settori come potrebbe essere anche il settore automotive che ha più diciamo una visione di breve nel settore aerospace fondamentalmente noi avevamo previsioni di raddoppio degli aereo mobili il raddoppio del numero dei passeggeri da qui al 2037 avevano portafogli ordini faccio solo una considerazione per avere un aereo di medio raggio come potrebbe essere la 320 nio dell'airbus che chiaramente è a un unico corridoio prima del covid occorrevano circa otto anni per poter avere un aeromobile all'improvviso capita la pandemia lockdown chiusura aeroporti abbiamo visto quelle immagini televisive dove vediamo le piste degli aeroporti che erano diventati parcheggi degli aeromobili le compagnie hanno incominciato alcune ahimè purtroppo a licenziare altre hanno piuttosto chiedere procedure concorsuali se non il fallimento e hanno incominciato chiaramente prima di tutto a rimandare gli ordini e poi in questo momento ad annullarli faccio solo un esempio nel mese di agosto airbus ha acquisito un solo ordine di un airbus a 320 poi da parte di un privato e non di una compagnia aerea questo per dimostrare qual è oggi la situazione che cosa noi facciamo noi abbiamo dimostrato di essere resilienti perché noi sappiamo che il settore riprenderà c'è un momento diciamo di difficoltà difficoltà che prevede una diminuzione chiaramente dei volumi però la gente una volta terminata la pandemia una volta che si avremmo trovato il vaccino avrà voglia di viaggiare ritornare a scoprire nuovi luoghi perché il mondo è fatto di questo non possiamo pensare che oggi noi non viaggeremo più non andremo più a scoprire non ci incontreremo è soltanto una fase momentanea perciò stiamo pensando a quello che succederà nel 2022 nel 2023 perché tanto il 2020 oramai è storia anche questa come io dicevo prima durante il convegno il bilancio del 2019 ma chi lo guarda più è una preistoria dal punto di vista economico delle stazioni chiaramente molte imprese non ce la faranno perché già nel 2019 erano in difficoltà chiaramente le imprese più residenti quelle più virtuose virtuose vuol dire dal punto di vista della governo virtuose dal punto di vista economico virtuose dal punto di vista della gestione finanziaria di inattenzione al working capital tutti quegli elementi che il covid ha soltanto ancora più evidenziato ma io ritengo che perlomeno queste sono le strategie e le linee guida che noi stiamo portando avanti che in questo momento da una grande difficoltà da una grande crisi che colpisce il nostro settore ci sono grandi opportunità e di questa opportunità che noi dobbiamo cavalcare e al termine farci trovare al termine del covid e nella nuova normalità new normal come tutti chiamano avere un nuovo modello di business e questo nuovo modello di business dovrà essere un modello ancora vincente ma diverso dal precedente perché non possiamo pensare di attuare gli stessi modelli in una situazione come questa di grandi cambiamenti certo le sue priorità quindi di presidente di manager di un'azienda di queste dimensioni sono in qualche modo cambiate alla luce di quello che sta succedendo ma cambiate dal punto di vista dei principi e dei valori assolutamente no grande attenzione alle risorse umane perché in questo momento io credo che cosa noi veniamo noi veniamo anche da un periodo che all'inizio abbiamo vissuto come qualcosa di nuovo di essere chiusi in casa e non poter uscire e di poter comunicare soltanto attraverso il web e questo però piano piano sta lasciando anche degli strasci che dal punto di vista psicologico perché la gente ha bisogno di potersi incontrare bisogno di guardarsi negli occhi ha bisogno di dialogare ha bisogno anche di confrontarsi per creare innovazione e questo chiaramente noi dobbiamo tenere la barra alta essere il morale dei nostri dipendenti e dirgli è un momento passerà noi saremo più forti di prima noi non stiamo abbandonando le nostre linee strategiche che rimangono quello perciò il problema fondamentale qual era prima del covid crescita crescita dobbiamo si evitare fra adesso stiamo guardando vari dossier dal punto di vista di poter fare acquisizioni noi abbiamo fatto un'acquisizione nel 2011 post le manbrada sono in un momento di difficoltà di crisi del settore indagno siamo andati a acquisire un'azienda in germania questo oggi è il nostro fiore all'occhiello credo che anche in questo momento ci sia la possibilità c'è la possibilità con grande attenzione con tutta una serie chiaramente di variabili che devono essere considerate però bisogna cambiare la mentalità lì oggi bisogna investire in digitalizzazione cambiare oggi abbiamo una montagna di informazioni che vengono noi siamo h24 abbiamo il nostro cellulare continuamente pieno di informazioni dobbiamo sfruttare queste informazioni metterle a terra e a fattore comune per potersi evitare a crescere ed innovarsi prima però di innovarsi non è solo la digitalizzazione prima bisogna mappare i processi e mappare una volta mappati i processi chiaramente innovarli attraverso la digitalizzazione certo chiaro lei oggi ha partecipato ad uno degli eventi legati al ruolo della finanza in azienda e evidentemente la sua azienda ha attraversato diverse fasi come ci ha raccontato prima management buyout poi insomma tutta una serie di evoluzioni nel corso della storia ho avuto modo anche di ascoltare qualche sua intervista in cui ho capito state anche guardando alla borsa come possibilità o comunque la state vagliando che ruolo ha all'interno della sua organizzazione la finanza e come ritiene potrà evolversi in futuro allora io ritengo che la finanza abbia un ruolo importante lo ha sempre avuto in questo momento io reputo la figura del cfo la figura strategica all'interno dell'impresa non è soltanto il detentore dei numeri il problema di colui che interloquisce con il sistema bancario di cui che fai dei flussi di tesoreria oggi è una figura strategica perché oggi le decisioni che prende il consiglio di amministrazione le linee guida che poi chiaramente l'amministratore delegato cerca di mettere a terra e di mettere in atto devono essere suffragate da quello che è l'aspetto del cfo perciò il cfo avrà una figura sempre più importante sta cambiando velocemente tant'è che non credo che noi in tante situazioni abbiamo cfo pronti per poter dialogare in questa nuova normalità che dicevo prima proprio perché sta cambiando il ruolo ritengo che in questo momento noi abbiamo fatto dei passi fondamentalmente nella governa noi pur essendo un'azienda quotata abbiamo una governa molto importante una governa che prevede consiglieri indipendenti pur non avendo nessun obbligo tre consiglieri indipendenti di standing molto elevato che provengono le aziende superiori in termini di dimensioni di volumi alla nostra stessa azienda perciò sono consiglieri di amministrazione che siedono in società quotate una stessa imprenditrice che siede in nostra consiglieri di amministrazione la sua azienda vale un miliardo di fatturato e è nostra consiglieri di amministrazione da lì è il primo passo per potersi strutturare, per potersi organizzare per avere un processo organizzativo che sia in grado di poter dare delle risposte non è un problema che dobbiamo dare oggi al mercato dobbiamo dare un mercato alle risposte prima noi stessi perciò stiamo facendo tutta una serie di attività perciò abbiamo all'interno del consiglio di amministrazione una corporate government che prevede un comitato rischi e nomine perciò fondamentalmente con consiglieri indipendenti non è che ce la sogniamo e ce la cantiamo da soli dall'altra parte abbiamo un comitato strategico tutto questo è un preludio per dire essere pronti per affrontare qualsiasi tipo di opportunità che dovesse offrire il mercato ma sempre finalizzati a una crescita e a quella di creare un valore sostenibile nel tempo perché il valore non è quello sostenibile nel giro di 5-6 mesi magari mettendo in atto certe azioni o certe procedure il problema è quello che si crea valore per gli azionisti nel tempo e noi questo l'abbiamo fatto perché abbiamo anche azionisti che sono con noi, piccoli azionisti che erano dipendenti dal 2008 oggi sono tuttora azionisti e hanno mantenuto le loro azioni ben strette sono cresciuti sia in termini di capital gain che in termini di distribuzione di dividendi pertanto tutta questa preparazione è per farci trovare pronti poi se l'opportunità della borsa sarà nel 2024 piuttosto che nel 2026 è essenziale trovarci pronti avendo anche un occhio alla sostenibilità e all'ambiente perché sarà un elemento fondamentale per la crescita futura pur non avendo un rapporto B to consumer dove chiaramente tutti i giorni uno va a vedere che cosa facciamo per poter prima di acquistare pur avendo un B to B perché teniamo molto alla nostra brand awareness e su questo stiamo lavorando anche dal punto di vista di dare tutta una serie di informazioni sul bilancio anche dal punto di vista dell'ambiente, della sicurezza e del welfare che è un elemento fondamentale della nostra strategia questa chiacchierata come ho detto prima si colloca all'interno del festival Città Impresa che è un po' il festival dedicato alle aziende Champions quindi le aziende che hanno come dire le più virtuose e che hanno normalmente la capacità di crescere come ha detto lei anche mantenendo una serie di indici di bilancio di estrema come dire eccellenza quali sono le strategie di cui va più fiero che hanno consentito alla sua azienda di rimanere in queste situazioni per così tanti anni? Sicuramente per essere, avere per anni buoni indicatori o KPI di performance importanti sia dal punto di vista economico ma soprattutto anche dal punto di vista di finanziario chiaramente vuol dire che ci sono tutta una serie il successo è un successo di un team di un team di persone con cui in questi anni è stata creata fondamentalmente una cultura di impresa perché se non si crea cultura di impresa lei non può imporre nulla tutti gli MBO che vuole, tutti quelli che sono le azioni però bisogna penetrare, bisogna avere un problema di gemmazione a tutti i livelli di quello che è il raggiungimento dell'obiettivo e di una creazione del valore in modo fondamentale per quello che lei mi chiedeva di cosa più vanto è quello di avere messo grande attenzione sul working capital perché molte volte diciamo un imprenditore o anche i media sono molto attenti al conto economico si va a vedere l'ultima riga per vedere qual è l'utile oppure anche altri aspetti patrimoniali, gli investimenti ma oggi l'elemento fondamentale e il Covid l'ho messo ancora più in evidenza è il problema del working capital quello che riguarda la gestione dei crediti quello che riguarda in modo particolare la gestione dei magazzini non è più come io sono nato in una cultura con cui diceva se lei va a un magazzino pieno di merci era estremamente felice oggi avere un magazzino pieno di merci probabilmente non è la stessa cosa perché chiaramente impegna finanza e finanzia che non dà un ritorno per quell'investimento che lei ha perciò bisogna avere il prodotto giusto al momento giusto in base alle esigenze del cliente e soddisfare il cliente per quelle che sono le sue desiderate esigenze certo di fatto mi verrebbe da dire il Covid ha un po' qualcuno diceva quando scende la marea si vede chi nuotava senza costume è andato un po' così nel senso che si è emerso chi non era pronto ad affrontare una situazione che è stata sicuramente molto molto forte ha parlato spesso di crescita e di sviluppo a livello internazionale come la state perseguendo e come intende proseguire in questo percorso anche dopo appunto il Covid noi stiamo guardando ci stiamo guardando perché chiaramente per un'azienda internazionale il mercato è un mercato globale cioè il mercato globale nel settore aerospace il mercato più importante è il mercato americano faccio solo una considerazione il mercato aerospace si fattura solo in dollari anche se lei sta in Europa questo lo dice lei è un elemento fondamentale pertanto stiamo guardando sia in Europa sia negli Stati Uniti per quello che riguarda eventuali acquisizioni e spostandoci non solo dal punto di vista del componente ma anche dal punto di vista di qualcosa in più del componente di qualcosa in più che sia un sistema oppure una parte di un sistema e questo stiamo puntando molto sugli attatori elettromeccanici chiaramente l'attatore elettromeccanico non è altro che trasforma anche questo un moto rotatorio in un moto traslattorio che non è altro che la combinazione di un motore elettrico di una vite e di un cuscinetto perciò tutto quello che noi produciamo compresa la parte elettronica viene messa in questa macchina e che ha un utilizzo l'attatore elettromeccanico sia nel settore industria sia nel settore aerospaziale noi adesso abbiamo fatto un attuatore elettromeccanico per un carrello di un elicottero che aveva sempre un movimento idraulico il carrello anche l'elicottero per atterrare ha chiaramente il carrello stesso che rientra nella carlinga nel momento in cui si alza e viene abbassato nel momento in cui atterra che fino adesso aveva un movimento idraulico e l'abbiamo sostituito come un movimento elettromeccanico questo primo carrello che avrà sperimentato è nell'elicottero cioè alla mobile H160 di Airbus perciò il problema è sempre quello di poter crescere con un occhio anche all'industria se capita un'opportunità per essere ancora più resiliente oggi chiaramente l'industria è molto più resiliente dell'Aerospace perciò l'occhio è sempre quello che dicevo prima a guardare grandi opportunità ancora la posizione finanziaria netta che è un elemento importante è una posizione finanziaria netta positiva che ci permette anche di andare a leva per poter eventuale fare qualche acquisizione sempre sostenibile chiaramente quindi diciamo i fondamentali sono la base su cui costruire o cogliere opportunità che il mercato possa presentare in un momento o in un altro bene io le farei duemila domande ulteriori ma il tempo è quello che è per cui magari avrò l'opportunità in un'altra in un'altra sede per ora la ringrazio molto alla prossima la ringrazio voi e spero di aver risposto in modo esauriente o dare perlomeno qualche spunto attraverso le domande che lei mi ha fatto e le mie risposte grazie grazie mille